Caritas di Agrigento organizza un laboratorio di sartoria. Qual è l'obiettivo? Lo chiediamo al direttore Valerio Landri. Tanti sono gli obiettivi che ci hanno portato a avviare i percorsi dei laboratori di sartoria che si ripeteranno nel corso dell'anno. Innanzitutto quello di trasmettere delle competenze professionali e artigianali a donne che vogliono acquisirle per diventare imprenditrici di se stesse. Sono poche le sarte in giro per la città e il fatto di riuscire a trasferire delle competenze è utile, è utile alle donne direttamente interessate ma anche alla collettività. Altro obiettivo è quello di favorire l'incontro fra donne che hanno delle fragilità diverse, sia perché straniere, sia perché alcune vittime di violenza, perché comunque vengono fuori da un contesto, una situazione familiare fragile ma anche donne che semplicemente vogliono acquisire questa competenza in più. Sono donne italiane e straniere che si trovano a stare insieme. Altro obiettivo è quindi quello di favorire l'intercultura, lo scambio di esperienze, di vita tra donne che vengono dall'Africa e donne che sono nate qui e che quindi si ritrova in uno spazio informale, quello di un laboratorio, nella quotidianità anche a condividere le loro preoccupazioni ma anche ciò che le ha comune. Cioè il desiderio di iniziare una vita diversa, di acquisire una competenza, di perfezionare una competenza che già avevano proprio nell'obiettivo di migliorare se stesse e quindi di svoltare. Sicuramente non ci aspettiamo grandissime come risultato, non ci aspettiamo che vengano fuori le grandissime firme, le nuove griff del nuovo millennio ma comunque ci aspettiamo che attraverso questa esperienza nuovi percorsi possano avviarsi, quindi possono esserci nuove storie di vita in autonomia. Caritas di Ocesana ha un progetto ambizioso, punta all'apertura in Viatanea di un laboratorio. Sì, vorremmo, e questo è quello che riusciremo a fare, ci auguriamo prima dell'estate, trasferire l'esperienza del laboratorio in un locale in Viatanea che per noi sarà non solamente uno spazio di laboratorio di sartoria ma uno spazio anche formativo, vorremmo favorire l'incontro fra la cittadinanza e donne italiane e estaniere che stanno vivendo questa esperienza. Uno spazio interculturale sarà anche uno spazio di esposizione di quelle che sono le attività della nostra Caritas perché è importante che venga anche pubblicizzato quello che si riesce a fare. Questo è un dovere che abbiamo nei confronti dei volontari, dei tanti volontari che prestano generosamente il loro servizio nelle nostre attività. È giusto che si sappia quanto bene c'è in questa città, quali sono le capacità di bene e di generosità di questa terra. E in un momento in cui si parla sempre delle cose negative, riuscire a raccontare dei percorsi positivi è secondo noi fondamentale.